Trasportavano cocaina tra la campagna e le marche e la spacciavano tramite un sodalizio criminale che ha coinvolto in tutto nove persone di origini campane. Denunciati dai carabinieri di Fano, il padre 61enne ed il figlio 36enne residenti ad Acerra Cicciano in provincia di Napoli, che con un appunto di colore nero trasportavano nascoste negli interni dell'auto ingenti quantità di droga nella provincia di Pesaro Urbino, per poi distribuirla agli agganci che l'avrebbero spacciata per le piazze di Senigallia, Fano e Pesaro. Tra questi individuata una coppia fanese che nascondeva lo stupefacente nel sottotetto di una struttura in ferro nei pressi della propria abitazione ed una coppia di giovani pesaresi sorpresi al casello con 200 grammi di cocaina appena ricevuta. I viaggi dei due corrieri della droga campani avvenivano senza preavviso in modo tale da non comunicare i propri movimenti. Nelle conversazioni telefoniche con gli acquirenti inoltre utilizzavano un linguaggio in codice riferito alla vendita di automobili. Il luogo prescelto per il passaggio delle ingenti quantità di cocaina che variavano dal mezzo ad un chilo è stato, ad esempio nel caso del passaggio alla coppia fanese, l'ospedale Santa Croce di Fano, come dimostrano le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il 61enne entrare nell'edificio vestito in modo elegante per non destare sospetti. I proventi di droga poi venivano versati in piccole cifre di 800 o 1000 euro su carte poste pay di persone senza precedenti penali, in modo tale da non insospettire le forze dell'ordine. Gli indagati, tra gli acquirenti e i titolari delle carte prepagate, sono in tutto 14. In mattinata al Tribunale di Pesaro ha disposto per 9 di questi il sequestro dei beni per l'importo di 150 mila euro, pari a quanto ricavato dalla vendita di stupefacenti. Arrestate la coppia di coniugi fanesi e di due giovani pesaresi, mentre per il 61enne campano è stata disposta la custodia cautelare in carcere appoggio reale.